Emanuele Filoni è qui per parlarvi dei risultati dei quarti di finale di ritorno dei Coppa Italia femminile, una Coppa Italia femminile che vedrà dunque in semifinale Juventus, Roma e Inter e Milan insomma veramente due semifinali veramente molto interessanti ma per spiegarvi come siamo arrivati a queste semifinali dobbiamo raccontarvi quanto occorso nelle recenti giornate in quanto abbiamo avuto la vittoria per 5 a 0 della Juve sull'Empoli all'andata era finita 4 a 5, Empoli 4, Juve 5 e la Juve probabilmente ha mollato questo 5 a 0 all'Empoli in casa a Vinovo con i gol bellissimo al volo di Bonanzea, Girelli, Sembrant e doppietta di Stascova quindi veramente ha calato non un poker ma un pokerissimo per il 5 a 0 contro un Empoli che ha provato qualche volta ad arrivare vicino alla re di vigore, ha provato qualche tiro, la maggior parte dei tiri sono arrivati centralmente quindi la maggior parte dei tiri l'Aro Giuliani l'ha bloccati molto facilmente, ha avuto una ghiotta occasione con Glionna che però ha colpito il palo, sta anche un po' sfortano da Empoli, forse un gol l'avrebbe meritato poi abbiamo avuto Milan-Sassuolo, il Milan è passato con lo 0 a 0 in virtù del risultato di andata ovvero dell'1 a 1 maturato dopo 90 minuti di gioco al campo appunto del Sassuolo quindi in virtù appunto dello scontro pareggiato 1 a 1, al Milan sarebbe bastato anche 1 a 0 e così è stato quindi abbiamo avuto anche Fiorentina-Inter ieri, Fiorentina che ha battuto l'Inter ma questo non è bastato per qualificarsi il gol è stato di Luis Queen, il palo di Cleland e poi la Vigilucci a porta vuota se vuol dire o semi vuota ha colpito Beatrice Merlo, sarà veramente molto sfortunata forse però da lì bisogna un po' segnare e diciamo che la Fiorentina ha sprecato troppo, non dico troppe occasioni perché non ne ha avute tantissime tanti alla porta ma comunque a livello anche tecnico, a una squadra comunque tecnica come la Fiorentina ci si aspetta qualcosa in più e secondo me la partenza quest'anno di Alia Guagni, di Ilaira Mauro e recentemente di Tatiana Bonetti ha fatto sì che la tecnica della Fiorentina non sia più quella di una volta chiaramente e la Fiorentina ha bisogno di ritrovare quelle giocatrici tecniche valide che possano fare la differenza perché altrimenti anche in campo nazionale la vedo molto molto dura la Roma invece ha calato un bel 6-1 sulla Florenzia dopo il 4-0 dell'andata probabilmente la partita già chiusa a prescindere con il calcio di Rio trasformato ad Andressa poi Bonfantini, il gol di Sofia Cantore per quanto riguarda la Florenzia e poi altri 4 gol, ancora Bonfantini, Tomas, Serturini è il gran gol a togliere la ragnatela lì sotto al set da parte della giovanissima Severini, diciamo quindi Juve-Roma, semifinale Juve-Roma e Inter-Milan o Milan-Inter insomma dipende dall'andata e dal ritorno sono due partite, una è una partita secca quindi diciamo questo potrebbe favorire le squadre un po' più avvantaggiate dal punto di vista della Rosa Juve-Roma però non sono partite scontate allora è chiaro che Inter-Milan-Inter-Milan è nettamente avvantaggiato è chiaro l'Inter forse non si aspettava neanche di trovarsi in questa posizione in una set in finale di Coppa Italia però è sicuramente un grande traguardo quindi andrà contro il Milan, peraltro il derby di Milano andrà contro il Milan non per fare la passeggiata di salute ma per giocare a pallone e secondo me, visti i recenti risultati del Milan non lo so se il Milan riuscirà a vincere o meglio, vincerà il Milan sicuramente però non so se riuscirà a vincere con un largo distacco mettiamola così credo che l'Inter farà di tutto per di farsi valere dipenderà sempre dalla condizione mentale perché ripeto, molte giocatrici quando arrivano a certi step poi mentalmente diciamo calano un po' quindi è importante l'aspetto psicologico delle ragazze di Attilo Sorbi e Attilo Sorbi in quelle due partite dovrà farsi sentire tantissimo dovrà farsi appunto far sentire la propria presenza in campo e non soltanto come allenatore in modo da manovrare appunto le azioni degli Inter che devono essere un po' più prestanti dal punto di vista tecnico devono essere un po' più energiche a volte un po' abbandonate a se stesse anche gli attaccanti gloria marinelli troppo laterale secondo me troppo esterna dovrebbe accentrarsi un po' di più quando lo fa infatti crea sempre dei bei presupposti per appunto creare occasioni importanti a livello offensivo della Roma c'è poco da dire la Roma andrà contro la Juve è vero saranno due partite quindi non sarà una partita secca e quindi sarà molto difficile per la Roma ma al tempo stesso sarà molto difficile per la Juve non insaccare gol abbiamo visto che la Roma è una squadra che segna tantissimo e quindi in virtù di questo la Juve deve mostrare un grande assetto difensivo io credo che qualche gol la Roma glielo farà c'è l'andata che ritorno un gol l'andata e un gol ritorno non lo so quanti gol farà la Roma ma se la Juve non riuscirà a tenere il ritmo della Roma la Roma potrebbe addirittura fare il colpaccio è chiaro che in virtù di queste due semifinali dei risultati passati di tutto quello che è la qualità delle squadre della Rosa il mio pronostico è Juve-Milan mi sembra abbastanza chiaro e netto però forse Juve-Roma non è così scontata specialmente alla Tre Fontane non è assolutamente così scontata forse a Vinove la Juve ha sempre una marcia in più anzi toglierai forse e quindi per la Juve sarà importante fare tanti gol fare tanti gol perché poi andrà a Tre Fontane dove la Roma darà il 110% lì magari qualche gol a Roma lo può fare e vi dirò secondo me può fare anche 2-3 gol a Roma a Tre Fontane a Vinove ha perso 4-1 il campionato ma questa è un'altra Roma secondo me sono passati circa due mesi ma questa è un'altra Roma quindi ne vedremo delle belle un mese e mezzo sì ne vedremo delle belle sono due belle semifinali una perché è un derby chiaramente di Milano quindi è sempre bello anche se forse il Milan chiaramente non è nella stessa situazione della Juve perché ripeto Juve-Roma è un po' più aperto rispetto al Milan Inter detto questo io spero che l'Inter entri in campo in campo con la voglia di strafare non di fare ma di strafare perché questa è un'occasione di ghiotta è vero che poi arrivi in finale e ti scontri o contro la Roma o contro la Juve che sono veramente le due squadre che al momento fanno più gol sembrano più in palla quindi è difficile però intanto vinci un derby vai in finale e te la giochi in finanza quindi insomma rimani nella storia lo stesso certo non come vincitrice eventualmente ma comunque come in finale come una squadra che sta maturando che sta crescendo e per l'Inter è importantissimo scusate è importantissimo arrivare in finale a questo punto io credo che a pallone bisogna sempre giocare poi le partite vanno giocate e poi vediamo un po' il da farsi dunque semifinale Juventus-Roma ovviamente è andare in ritorno e Inter-Milan questi sono un po' i miei pronostici non è difficile poi no dire che la Juve perde e il Milan perde sinceramente è più difficile dire che il Milan perde se vogliamo però il Milan ultimamente non mi sta convincendo molto forse forse bisogna capire con che cattiveria entra in campo e bisogna capire con che cattiveria anche l'Inter entra in campo questo è importante chiaro che i risultati vengono tutti a favore del Milan poco ma sicuro Juve-Roma invece c'è magari che ne so una 65% della Juve o 60% della Juve e 40% della Roma quindi diciamo che un po' così però anche qui la Juve è chiaro che se gioca a pallone la Juve gioca come ha fatto con tante altre squadre però l'Empoli non è la Roma per carità però certe triangolazioni delle Juventini fanno paure fanno paure a livello italiano a livello nazionale quindi ne vedremo delle belle secondo me Juve-Roma sarà una grandissima partita non me la voglio perdere per nessuna ragione al mondo ovviamente e vediamo un po' che succede ragazzi l'appuntamento è alla prossima con appunto i prossimi video nei quali appunto tratteremo la prima e per drolla i recuperi ma tratteremo anche altre partite ovviamente di campionato di serie a femminile ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti